Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Giornata freddissima di fine anno, ho acquistato qualche giorno fa degli alberi da frutto a radice nuda. Sono questi qua, vedete, vengono venduti direttamente con le radici a vista. Rispetto a quelli col pane di terra costano anche la metà, hanno più possibilità di attecchire nel terreno se si mettono in questo periodo e questo è l'unico periodo in cui vanno messe, cioè d'inverno. Mentre quelli con il panetto di terra si possono mettere in qualunque periodo dell'anno. Quindi ci sono vantaggi e svantaggi di questi alberi qua a radice nuda rispetto a quelli col pane di terra. Adesso ve ne parlo in modo più specifico. Eccoci qua, bentornati, perché ho scelto questi alberi a radice nuda invece che quelli col pane di terra. Gli altri anni acquistavo soltanto quelli in vaso e ho avuto nel tempo una percentuale di non attecchimento e di moria degli alberi abbastanza elevata. Queste invece a radice nuda, oltre a costare meno, hanno una percentuale di attecchimento maggiore. Mi sono un po' informato e rispetto ai primi tre pianti che ho fatto 5-6 anni fa, dove ho acquistato sì quelle radice nuda, ma li ho messi direttamente nel terreno. Questa volta purtroppo è iniziato a piovere nel momento in cui li ho presi e quindi non potevo metterli direttamente nel terreno. Dovevo conservarli in qualche modo, quindi li ho tenuti una notte a bagno, giusto per non far seccare le radici. Poi li ho messi in questo grande vaso e ho messo un po' di terriccio, giusto giusto per non farli seccare. Guardando un po' in rete ho visto una tecnica molto particolare di cui vi parlo adesso, in zaffardatura. In pratica consiste nel preparare un miscuglio, un mix molto cremoso di stallatico e di terriccio e tenere a bagno in questo mix le radici per una notte. Io non ho lo stallatico quello vero, ho quello pellettato, quindi farò una sorta di modifica alla ricetta originale e vediamo come viene. Per me è la prima volta, quindi i risultati non ve li posso dire subito, ve li dirò poi magari in primavera quando le piante attecchiranno, sperando che attecchiscano. Vi faccio vedere le operazioni, dal momento che per me è un'operazione nuova, se qualcuno di voi conosce questa tecnica e mi vuole dare un consiglio, lo ringrazio, altrimenti vi dovete semplicemente fidare. Allora in un secchio metto parti uguali di stallatico pellettato e poi dopo di terriccio una volta che l'ho miscelato. Saranno un paio di chili non di più. Comincio a miscelare. Intanto faccio riposare il trapano, vi dico, ho letto e ho visto qualche video di questa tecnica qui perché si fa. Si fa perché così le radici vengono ricoperte da questa sostanza molto nutriente e ne agevoleranno nel momento in cui andranno poi a regime, cioè in primavera, quando comincerà poi lo stato vegetativo. Ovviamente adesso che è inverno loro sono a riposo vegetativo, a questa operazione loro serve poco, quindi vedremo i risultati se ci sono poi in primavera. Ok, ho cambiato il trapano, ne ho messo uno un pochino più potente. Adesso piano piano mischerò del terriccio e del terriccio recuperato. Leggevo che non deve essere molto liquido, neanche troppo solido. Per mischiarlo uso un attrezzino qua che si usa per fare il cemento, per mischiare la vernice. Lo trovate al brico, costa 5-6 euro. Ecco, più o meno ho rispettato le proporzioni, un po' e un po', uno a uno, si va a occhio, eh? Eh, è una numaca, meno male che l'abbiamo vista e la salviamo questa poverina. Adesso con la paletta l'ha rivolto un po'. Questa potrebbe già avere la consistenza giusta, è cremosa, è una pappetta. Perfetto. Benissimo. Bene, adesso rimetto gli alberi nel vaso. E' solo uno stallo provvisorio, eh? Ok. E mettiamo dentro questo mix proteico. Ok. 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 bene ok queste adesso le terrò a bagno in questo intruglio per tutta la notte probabilmente avrei dovuto accorciare le radici più lunghe ma ormai non l'ho fatto e pazienza domani se il tempo tiene le metto dimora e come vi dicevo all'inizio del video risultati non ve ne posso dare quindi un esperimento che sto facendo così come dicevo è stato un video molto veloce abbastanza sporco se dovete farlo magari fatelo all'aperto io sono dentro la serra se avete esperienza con una tecnica simile volete scrivermi nei commenti viene sono grato vi ringrazio per essere stati anche con me se vi volete iscrivervi al canale mi fate un grosso favore un grosso piacere se tentanti guardati video è un po meno quelli iscritti magari se vi va di iscrivervi mi aiutate a far crescere il canale grazie per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata a giovedì prossimo